16 nazioni fra cui gli azzurri si sfideranno dal 15 al 24 febbraio 2024 per la conquista della Coppa del Mondo di Beach Soccer. Il sorteggio della dodicesima edizione del Mondiale a Dubai il 15-24 febbraio 2024 si svolgerà venerdì 6 ottobre alle 16.30 presso la Mohamed Bin Rashid Libra di Dubai negli Emirati Arabi Uniti. L'Italia ha staccato il pass grazie ai risultati della FIFA Qualifix giocate a Baku. Per l'Europa ci saranno anche Bielorussia, Ucraina e Portogallo. Attende il sorteggio per conoscere il suo girone e le sue rivali. Gli azzurri arriveranno all'appuntamento con la rassegna ridata con i riflettori puntati addosso dopo aver vinto l'Europeo lo scorso 24 settembre ad Alghero in Sardegna con 6 viaregini in rosa. Le 16 nazionali partecipano anche gli Emirati Arabi Uniti, padroni di casa. L'Argentina, il Brasile, la Colombia, l'Egitto, l'Iran, il Giappone, il Messico, l'Oman, il Senegal, Tahiti e USA saranno divise in quattro gruppi da quattro.